Mi pare con la legge elettorale che c'è, non mi pare che ci sia stata nessuna dichiarazione di incostituzionalità, tante chiacchiere sul cosiddetto porcellum, tanti insulti, tante violenze, tante indicazioni, ma finora non l'ha cambiato nessuno. Non lo sta cambiando da quel che si apprende, neanche la Corte Costituzionale che se la prende comoda. Per cui la Costituzione dice, la legge dice che c'è una legge elettorale e che se si sciolgono le Camere si va a votare con la legge elettorale che c'è. Brutta, bella, sporca e cattiva che sia, ma è la legge elettorale che c'è e ricordo con questa legge elettorale è stato eletto il Presidente della Repubblica due volte.